Nel corso degli ultimi anni il problema circa il suo riscaldamento globale legato all'inquinamento ambientale è diventato prioritario e questo soprattutto nel settore industriale. La necessità da parte delle aziende di adottare delle politiche basate sull'ecosostenibilità è sempre più prorompente. Per questo motivo nasce e si sviluppa un nuovo paradigma economico definito economia circolare con l'intento di sostituire in un arco di tempo ragionevole il vecchio modello di economia lineare. Si tratta di una nuova struttura economica che riesca a contenere gli sprechi mantenendo tuttavia un'alta qualità di prodotti e materiali ma che soprattutto sia in grado di recuperare e reintrodurre quest'ultimi qualora avessero ancora una possibile utilità nel sistema economico. Per questo si preferisce l'impiego di energie rinnovabili all'uso di sostanze chimiche tossiche che ne pregiudicano il riutilizzo. In tal modo si andrà definitivamente a sostituire il concetto di fine vita con quello di ricostruzione. Questo è il ciclo perfetto che unisce gli aspetti economici alla tutela ambientale minimizzando non solo lo sfruttamento di materie prime ma anche la dispersione dei rifiuti. Un nuovo sistema basato su una strategia, take make use return, prendi, produci, usa e riusa. Una netta differenza se si pensa al tradizionale approccio lineare adottato come principale modello produttivo fino a pochi anni fa. Si tratta in questo caso del take make use dispose, prendi, produce e butta via, scandito da un inizio e una fine, rimanendo sempre meno compatibile alla realtà in cui viviamo. Sempre più spesso in Europa si sente parlare di economia circolare o circolare economy. La prima associazione a promuovere questa strategia di business è stata l'Allen MacArthur Foundation, nata nel 2010 e che pone come propria mission la salvaguardia ambientale del pianeta. Sorprenderebbe sapere che l'Italia risulta tra i primi posti dei paesi europei per l'attuazione dell'economia circolare. Tra i vari settori, quello agroalimentare è sicuramente uno dei primi ad attuare dei modelli di sviluppo sostenibile. Ne è un esempio il progetto Carta Crusca, creato dalla ricerca e sviluppo di Barilla e di Favini, che insieme sono riusciti a selezionare il residuo più adatto arrivando a sostituire ben il 20% della cellulosa proveniente d'albero con la crusca derivante dalla macinazione del grano, non più utilizzabile per l'alimentazione, ottenendo una carta dal colore naturale utilizzata per il packaging stesso dell'azienda. La Vazza ha progettato in collaborazione con Novamont una capsula biodegradabile, che può essere smaltita come rifiuto organico e diventare compost, mentre i fondi del caffè si utilizzano per la coltivazione di funghi. La Ferrero trasforma parte dei gusci delle nocciole in una fibra chiamata Axos, in grado di rafforzare il sistema immunitario, cardiovascolare e accelerare il metabolismo. Entrando nel vivo della tesi, vediamo che succede quando al mondo della moda e del tessile si incontrano con questo nuovo modello economico. Purtroppo l'insieme delle attività che si possono identificare con la produzione, la vendita e l'utilizzo e lo smaltimento di capi di appigliamento costituisce un'impresa decisamente problematica, paragonabile in termini di emissioni e di impatto ambientale solo all'industria chimica. Si aggiunga il fatto che sia dominato da continue tendenze che variano in tempi brevi e prezzi modici, spingendo il consumatore a comprare al di là dei loro bisogni, favorendo il consumismo. Un fenomeno che prende il nome di fast fashion, che si differenzia dalla slow fashion basata su una produzione sostenibile e limitata di prodotti. Ma c'è una fase nell'economia circolare dedita alla riconversione su base creativa circa le materie prime di scarto dei prodotti inutilizzati, differenziandosi da riciclo perché non si riduce il valore dell'oggetto, anzi si ricorre ad un design intelligente che lo rende ancora più interessante oltre ad allungarne il ciclo di vita. Parliamo dell'upcycling, dove i designer reinventano, riadattano e trasformano i capi in qualcosa di nuovo. Affrontare lo spreco tessile è questo l'obiettivo dei grandi marchi. Esprit fu la prima azienda pioniera della sostenibilità a produrre un e-collection dimostrando che anche il mondo della moda possa puntare ad una buona performance ambientale. A seguire Giorgio Armani nel 2016 elimina le pellicce dalle sue collezioni, denunciando la violenza sugli animali, una tematica attuale che la famosa casa Moncler ha ignorato per anni, accusata poi nel 2014 per l'utilizzo di tecniche di spiumatura a vivo. Decide così di creare il triporto, un piumino dal cuore vegetale imbottito di semi di ricino. Ico Alfer accoglie i rifiuti dal mar Mediterraneo trasformandoli in capi di abbigliamento. Stella McCartney, paladina della moda etica e del cruelty free, utilizza solo oli vegetali e plastiche riciclate. Carmina Campus è l'azienda italiana di Ilaria Venturini Fendi, famosa per la sua message bag, una borsa prodotta dalle donne di un villaggio in Kenya con materiali di riciclo trovati sul posto. Infine si porta come oggetto di studio l'azienda Fortunale, esperta nel settore della maglieria, che rappresenta al 100% il modello made in Italy e costituisce il massimo esempio di applicazione dell'economia circolare in tutta la sua filiera produttiva, producendo notevoli risultati in termini di sostenibilità ambientale, innovazione e valorizzazione del territorio. Tutti i capi sono prodotti in lana biologica priva di Lionel, proveniente da allevamenti biologici italiani nei quali si rispettano le naturali condizioni di vita degli animali, garantendo la massima qualità della lana. La tintura dei capi è naturale grazie ad un processo che utilizza più di 200 ingredienti naturali per ottenere una vasta gamma di colori e sfumature. Fortunale investe parte del suo capitale in progetti volti alla salvaguardia dell'ambiente. Grazie alla collaborazione collega ambiente si è lanciato il programma One Sweater One Tree, dove per ogni maglione venduto viene piantato un albero nelle zone di sboscate o confiscata la mafia, il cui numero identificativo verrà ricamato sul maglione rendendolo unico. Tra i fattori di gricità riscontriamo l'elevato costo dei prodotti, ma a fronte di questo l'azienda garantisce una maggiore durata della maglia e l'eccessiva produzione di scarti tessili. Comunque i clienti sono disposti a spendere un prezzo più alto se questo significa avere un capo al di sopra della media e che rispetti l'ambiente.